Il desiderio di dedicarsi in maniera definitiva alla vita al padre per la salvezza degli uomini noi vi accadmiamo. Ora, dopo un lavoro che abbiamo iniziato a non parlare mai, senza le nostre famiglie subvegliamo. Gesù, pane e niente, sforzo e giurati. Siamo iniziati a rinforzare un po' di noi con la nostra vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.